La Polizia di Stato di Catania, su delega della Procura della Repubblica, direzione distrettuale antimafia, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, nei confronti di 13 indagati. Questi individui sono accusati di associazione per delinquere, finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, con alcune accuse aggiuntive di detenzione e porto illegale di armi clandestine. Le misure restrittive sono il risultato di un'indagine avviata nel giugno 2020 e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia con il supporto della squadra mobile, sezione antidroga della Questura di Catania. L'indagine ha coinvolto intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, oltre a videoregistrazioni permettendo di raccogliere prove significative contro un'organizzazione criminale dedita al traffico di cocaina tra la Calabria e la Sicilia. L'inchiesta ha inizialmente preso di mira il gruppo capeggiato da Ari Chiazza, un noto trafficante di cocaina di Catania. Le indagini hanno identificato il fornitore di cocaina, un calabrese da tempo stabilitosi a Catania, con base operativa nel rione di San Giovanni Galermo. Questo individuo avrebbe gestito un vasto traffico di cocaina, collaborando con complici sia calabresi che catanesi, utilizzando autovetture con vani nascosti per il trasporto delle droghe. In meno di sei mesi sono stati documentati 20 trasporti e consegne di grandi quantità di cocaina e numerosi pregiudicati catanesi, alcuni legati ai clan mafiosi locali. L'operazione ha portato al sequestro di 11 kg di cocaina una pistola Revolver calibro 38 Special con matricola a brasa e munizioni, oltre a 90.300 euro in contanti nascosti in una parete di un'abitazione.